nuovo video e quarto episodio della serie dei trail vi faccio vedere un percorsino una discesa abbastanza veloce che non ho messo nel video di cingoli perché veniva troppo lungo molto divertente e abbordabile un po per tutti diciamo che fa quasi da trasferimento tra una discesa in alto abbastanza facile fattibile per tutti però molto divertente guardate è un po' è di che ora via via ora va e 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